Sono ancora io, Andrea Bruno. Quest'oggi mi trovo in un luogo molto particolare all'interno di un'abitazione tipica nella foresta del Borneo. Vi mostro un po' com'è questo posto, veramente un posto paradisiaco. Qui la semplicità è veramente eccezionale, ho fatto un po' fatica a raggiungere questo posto. Ho sudato sette camicie visto la calura e anche visto il fatto che ci troviamo veramente in un luogo molto isolato. Ecco, vi mostro un po' com'è un'abitazione tipica e anche quello che si vede qui all'esterno. Eccoci qua. L'abitazione qui, come potete vedere, è tutta di legno, bellissima. Il tetto. E diamo un'occhiata anche, diamo un'occhiata un po' anche all'esterno, come si sviluppa il posto. Vedete di fronte c'è un'altra abitazione di legno. Sulla destra c'è un laghetto, tutto, ovviamente il posto è paradisiaco, tutto molto bello. C'è una casetta, adesso non so da qui quanto si possa vedere, in realtà è una palafitta dall'altro lato. Adesso cercando di tenere ferma la camera, vedo se riesco a zoomare così vi do un po' una bella visuale. Ok ragazzi, alla prossima.